Ispiratene! E' l'unica camera disponibile. Ma mi sembra che ha lasciato la bottiglia aperta. No. E' ora. Zack, ecco qua. Oh, mamma mia! Hai una scarpa slattura. Vuol dire reciproco. Caffè. E' possibilmente un sorriso. Il caffè glielo do subito. Il sorriso quando mi va. Guardi pure le ragazzine adesso. Chi è quella? Per carità. Non l'ho nemmeno vista. Quello delle bugie resta sempre il tuo hobby preferito. Ho passato tutta la giornata con la nonna. E non ho nessuna intenzione di passare la notte con il nonno. Tanto sono stufa di stare qui. Ma non sai contare l'età di tutti? Quanti anni ci sono? 4.620. Hai contato tutti i miei? No. No, dicevo che tu sei sprecata a fare la serva in quella specie di prigione. Quello ossario. Col corpicino che hai. Ma lo sai che tu potresti fare del teatro? Perchè non provi a innamorarti di me, eh? Non ci ho mai pensato. E pensaci. Pensaci. Ma come fa uno a sapere se sei innamorato o no? Renata, ti amo! 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 Ti amo!